Per una Valle d'Aosta più libera, l'Union Valdotene Progressiste. Le tradizioni e la cultura di un popolo non sono in vendita. Il progetto dell'Union Valdotene Progressiste valorizza la persona. La Valle d'Aosta è inaccessibile e questo non si può più tollerare. Per scelte corrette in materia di trasporti, l'Union Valdotene Progressiste. Dobbiamo servire la gente e non servirsi della gente. Grazie per la visione!